Ristretto italiano, i media internazionali scrivono di noi. Martedì 13 dicembre, Santa Lucia, buongiorno a tutti. Veniamo anche oggi a vedere e a sentire che cosa la stampa internazionale scrive dell'Italia e degli italiani. Continua la copertura internazionale della strage dei condomini a Roma Nord e le cronache internazionali si arricchiscono ora del dettaglio che una delle vittime era amica personale della nostra premier, Giorgia Meloni, un particolare che a questo punto è citato in tutti i titoli che ho trovato, in tutte le lingue. E continuano le cronache sempre più dettagliate su ciò che si sa delle indagini della polizia belga che hanno visto portare in carcere, assieme alla vicepresidente greca del Parlamento europeo, un ex eurodeputato del PD Articolo 1, Pierantonio Panzeri. L'articolo che da Parigi, Metro, dedica oggi alla vicenda, mette a fuoco il ruolo, ipotizzato dall'accusa, della moglie e della figlia di Panzeri, poste entrambe agli arresti domiciliari. Loro, le due donne, avrebbero avuto parte attiva negli affari illegali del marito e padre, ricevendo molto denaro e molti regali. Inoltre, avrebbero lavorato ai, diciamo così, trasporto doni. Contangenti, sempre secondo l'accusa, la famiglia avrebbe costruito una villa a Cervinia e organizzato una festa da circa 100.000 euro. E non è tutto. Sempre secondo l'accusa, i coniugi Panzeri avrebbero cercato di occultare transazioni utilizzando una carta di credito intestata a un personaggio fittizio di cognome Dereus. Le polemiche tutte italiane sui limiti al contante hanno portato il governatore Ignazio Visco a riaffermare l'indipendenza della Banca d'Italia. Lo ha fatto nel programma Rebus di Corrado Aucas e le sue parole sono state subito riprese da Reuters. Banca Italia, lo ricordiamo, roba di 7-10 giorni fa, era finita a suo malgrado nella querelle dopo l'audizione di un suo alto funzionario in Parlamento in favore dei pagamenti tracciati. aveva detto il contante favorisce il sommerso e l'illegalità, giudizia i quali seguirono battute taglienti dai banchi del governo circa la presunta dipendenza di Banca Italia dai gruppi finanziari che traggono vantaggio dall'utilizzo delle carte di credito. Visco ha ribadito che l'istituto che egli dirige, oltre a non dipendere dalle banche, è autonomo di giudizio, indipendente nella sostanza e indipendente anche di diritto. Visco ha anche affermato che l'attuale divario o spread relativamente basso tra i rendimenti dei titoli italiani e quelli tedeschi è un segnale della fiducia che il mercato ha nell'Italia di Giorgia Meloni. La Tunisia ringrazia African Manager, riferisce dell'ammodernamento del grande mercato del pesce di Gerba grazie all'erogazione di 5 milioni di euro nell'ambito di un programma dell'Agenzia Italiana per la cooperazione e lo sviluppo. L'obiettivo è quello di migliorare i sistemi di produzione e di consumo in vista di una crescita socio-economica sostenibile. Finanziato per un periodo di tre anni, il progetto è realizzato in Italia dal Centro di Studi Agronomici Mediterranei di Bari in stretta collaborazione con il Ministero dell'Agricoltura. Non si tratta infatti semplicemente di un SUC, bensì di una struttura in grado di garantire la competitività dei pescatori e la tracciabilità del pescato, oltre a salvaguardare l'ecosistema marino. Con un servizio dedicato all'Italia, la radiotelevisione belga-francese ricorda il decennio dei nostri anni di piombo che iniziarono esattamente 53 anni fa, il 12 dicembre del 1969, con le bombe e con i morti di Piazza Fontana. Fu quello il giorno in cui in Italia ebbe inizio una scia di attentati durata almeno 12 anni messi a segno sia dalla finestra estrema sia dalla destra estrema. Le bombe di destra, con quella che giornalisticamente veniva definita strategia della tensione, miravano a portare i cittadini a esprimere un bisogno di maggiore autorità, un po' come stava accadendo in Germania, se non che qui in Italia, il pericolo rosso era sentito ancora di più per la presenza del più forte partito comunista europeo. Il culmine, l'estremismo di destra, lo raggiunse con la strage alla stazione di Bologna. L'estremismo di sinistra, invece, sempre la radiotelevisione belga che parla, si concentrò di più sugli attacchi mirati, sugli omicidi, sui ferimenti, sui rapimenti. Da sole le Brigate Rosse rivendicarono 86 omicidi contro magistrati, poliziotti, politici, tra i quali il leader della DC Aldo Moro, ucciso dopo una prigionia durata 55 giorni. L'Italia, conclude il servizio belga, non fu l'unico paese colpito, ma certamente quello dove i cosiddetti anni di piombo durarono più a lungo e con maggiore ferocia. E rievocarlo fa bene, non fosse che per ridimensionare in una diffusa falsa percezione delle cose la nostalgia dei cosiddetti anni felici. Che felici davvero, ve lo può dire uno che gli ha vissuti, non lo furono granché. Concludiamo con una notizia che riguarda gli immigrati che trovano rifugio in Italia e a volte riescono a capitalizzare il sostegno che hanno ricevuto. Dagli Stati Uniti Associated Press parla di Batul Haidari, la psicosessuologa afghana, che accolta dal nostro paese dopo la ripresa del potere dei talebani nell'agosto del 2021, è riuscita a ricostruirsi una vita a Roma. La donna, 37 anni, ha concesso all'agenzia di stampa statunitense una lunga intervista nella quale parla di ciò che l'Università di Kabul era riuscita a realizzare negli anni scorsi nel sostegno, in un progetto a cui lei partecipava, ai ragazzi con problemi di identità di genere e di come poi tutto si è crollato in pochi mesi, nonostante la dichiarazione di impegno da parte del nuovo potere afgano a rispettare quella che era stata la ricostruzione del paese. Sposata al titolare di una fabbrica di tappeti, madre di un ragazzo e di due bambine, Haidari per qualche mese ha cercato di resistere a Kabul, ma poi verso la fine dello scorso anno lei e la famiglia accettarono l'aiuto dei volontari italiani, soprattutto convinta dalla giornalista Grazia Mazzola, e riuscirono a fuggire rocambolescamente in Italia attraverso il Pakistan. Oggi vivono alla periferia della capitale, sostenuti economicamente da varie associazioni e lei è riuscita a ripristinare i contatti con alcuni dei suoi vecchi pazienti tramite internet. Come le centinaia di altre donne afghane rifugiate in Italia, Haidari cerca inoltre di mantenere un ruolo attivo anche nella nostra società. Se sono venuta in un paese europeo, ha detto la donna, è per dare un futuro ai miei figli, i quali desiderano tornare appena possibile in patria e contribuire al futuro del paese d'origine. Intanto è stata una grande soddisfazione per lei vedere il proprio figlio maggiore ammesso alla facoltà di medicina della Sapienza. Era l'ultima notizia. Vi auguro una buona giornata di Santa Lucia. In molte località del nord è una festa per i bambini che a Santa Lucia ricevono i regali. Io li penso con molto affetto e partecipazione. Buona giornata a tutti! Ristretto Italiano di Ruggero Po.